E' il bellissimo store che non va Ammassa oh Peggio di una mitragliatrice sono queste tre Qualcuno mi spiega perché non ho le granate a disposizione Ah livello 31 Ho visto un paio di caballero che ha resistito la granata Sì Si riconfigura un momento Giorno Giorno Ho visto due cavalieri scomparire davanti ai miei occhi Ho come presentimento che qualcuno ha usato un gallo Eh l'ho usato come c'è io E qualcuno si è fatto anche male No Non esistevano più Ok io sto usando il cecchino e non li becco neanche Che c'ho dietro? Ciao Matta se scodete Movimenti Quasi quasi non lo aiuterai nemmeno Ma il cazzo Voglio lanciare un altro missile a otto Come faccio ad avere solo otto proiettili per l'arma primaria? Allora Oh Fatto L'ingresso è aperto No Ho di nuovo la super Si Hm Espresso io Non è morto Porca Mi esploso uno di quei cosi di fianco Sì Ho chiudito Rebe, mio Dio Ah, eri tu il pericolo Pioggia di granate Buon Crispy, McGiorno Lasciamelo uccidere uno Sì, sì Vaffanculo, ho usato la super Dai, granata, prima che finisca la super Bella Sono riuscito a salire qui Ci avrò messo dieci anni l'ultima volta che avevo con lo stregone Bella mira, bella mira Mamma mia questo schiavo Mi ha fatto un salto addosso Sì, si risveglia l'interdetto o no? Finché non ha matto tutti e lo coltisci un po' C'è ancora un accolitor in fun Va muore Ovviamente deve mirare subito meno Che c'è come saltano? Già qua di fianco Ammunition Permessa Bello Mi dico che questo qui è un cazzo di bazooka di merda Non c'è, vorrebbe Ops Scusa, eh Devo riprendermi un po' di scudo, grazie Guarda qua, questo stronzo come scatto Mi inghigna Cosa è che vendeva su? Dov'hai fatto la bolla? Oh, armi nella luce Piano C Vieni che c'è a pia... Armi nella luce questo Piano C Un casco per... Il mio casco che ho su adesso per lo stregone Che c'era anche la settimana scorsa, se non mi sbaglio Ah no, no Questo No, questo no Ops Scomparso Ho tenuto la bolla, porca troia Aspetta, faccio un po' di... Sfere di luce Se riesco a mirare quali là in fondo Un pochino ne ha generato Ma c'è un'altra bella sferetta Grazie, è proprio quello che vuoi Ostria Resiste la... Una bolla al pugno Poi mi spieghi quanti cazzo di danni fai con quell'arma Con quel fucile Cari del legno Un digio? Sì, sì Oh, oh, oh Ehm Ehm Inchia, stai buono Non investirmi Ho fatto un grande viaggio Che mi ricorderò per sempre Con quella storia Sono quasi salito in un punto che neanche sapevo che si stessa Poi al fine si arrivi a 3.000 Ti hanno l'engramma esotico Mh, di cosa? Di qualsiasi cosa può capitarti E capiretterà di sicuro rompichiaccio Che è l'unica cosa che mi serve Ma da che cazzo di parte si è andati brutti mongoloi Cazzo Proce più di seguire Io ho seguito lui Evocatelo, evocatelo Stavo neanche seguendo dove stavo andando Ho semplicemente seguito lui Mentre parlavo Che vuoi? Posso fare anch'io? Non sei morto Ti faccio un cazzo a pugni Ma io continuo E' uno stronzo inscivolato Con cui sei a pompa Ma non ti vergogni Ecco il giallognolo Vai Mancato, vero? Ciao, giallognolo Oh, volevo cadervi in testa Ah, ok Ho colpito in testa Ma non era comparso il danno Ci sono andato di risolutizia Eh, sì, sì Visto dei Solo i missiletti Io ho visto Buongiorno Ne vuole lasciare uno? No Oh, eccolo, eccolo È mio Non gli faccio un cazzo veramente Con l'attacco corpo a corpo Come è caduto male Aspetta, vengo a soccorrerti Stai bene? Mi metto a soccorrere Ah, no Non hai la testa C'è qualcosa che Non riuscivo se mirarli Mi tornava sempre giù la mira col cecchino Teniva fisso alla testa di uno Ahia, goblin di merda Chi c'è? Ah, ciao Ma che cosa Dai Ancora Siamo? Ah no, c'è ancora uno goblin di fianco E chi l'ha visto? Stavo divertendo a prenderle pugno Sono quasi I danni erano più gravi Eh, sì Erano gravissimi Eeeh Uno E due E tre Ammazza Ammazza Fai danni Se magari è nero Magari lo ammazzi Sono da solo È sempre uno giallo Eh, non è che Dai, monti Eh, si nasconde Miio Oh polverizzato c'è andato di mano leggera mi dicono sì l'ho polverizzato e di bastanti con cui c'è la pompa qua nel crog, c'è il vacca di fa' paura buongiorno mio è mio riesci a ammazzarli con un caricatore solo? sì sicuro di cosa? di galla orde? no cari del legno guarda sicuro è così potente ho copito solo una volta quasi guarda quanta vita gli ho tolto si accorta che c'è anche il cecchino e quello là dietro e poi lo finisce così oh che cazzo mi osservi oh guardare da un'altra parte guardone per me è solo non riesco a mirare con quella palanza e muori complimenti si è sparato in faccia vero? no mi è arrivato mi ha ammazzato nella navicella per uno spirito guarda che vuole sta palanza qui due? se riesco? se passa fuori io oh oh mi invece no arriva lui col galla orde che c'ho dietro? sono morto? di nuovo? lo fai apposta? eh sì oddio c'è un colosso di fianco io non posso diventare invisibile che cazzo vuoi tu? se si ma siamo a livello 28 o al 36? sopravvivirebbe dai aspetterò 30 secondi aio ma va che che è adesso mi butto giù quasi quasi questo per ricominciarli ma è vero ma che cazzo? che cazzo? io muoio nooo stavo rianimando vorrebbe essere strutto però eh eh lo stavo rianimando speravo di riuscirci muoio 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 ma chi è che sta sparando come uno stronzo? siete una mitragliatrice cioè non so se vabbè ma mi state prendendo per il culo adesso ditelo io mi sparo sotto le ginocchia così col missile guarda quel bel colosso si mancato ah sono venuto così gentilmente a io sto ammazzando il colosso io sto ammazzando il colosso non ho neanche quanta vita adesso se c'è da me stop e muoio bella dico all'avanguardia che gli squigliatori sono non devi scappare guarda quante navi c'è guarda perchè in ogni assalto c'è una bella scena che è inutile che non guarda nessuno ai tanto non 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 ma ci ci